buona mattina buona mattina a tutti buon dick un bel pollice in su se volete far guarire il capo mi raccomando non c'è bisogno di fare queste battute muoro sul pollice in su io vabbè faccio un pisolino io tra 5 minuti ieri sera sono andato a letto sì ho guardato tutti gli oscar fondamentalmente me ne fregava anche poco la quantità di film che ho visto ho guardato fino a una certa perché comunque mi interessa come evento grazie minar mi sono addormentato comunque tardissimo quindi oggi sono tutto caccato non so se riesco a seguire stamattina dovrebbe arrivare un pacco un pollice in più secondo me mi servirebbe franci c'è quindi vabbè in caso si stavo dicendo in caso scendo io ma poi è roba un po' complessa i piedi sai non è che c'hai i piedi come come li uso per i pacchi però se vabbè posso fare senza il dito penso ti abbia preso 80 kg di roba no deve arrivare anche la roba che ti ho fatto che ti ho detto ieri oggi ti da arrivare il manuale di strutture ma mi deve arrivare un pacco non lo so non non voglio essere pagata ieri me l'hai fatto si si se siamo con le mani per portare il pacco comunque un po' più non è vi metto coi palmi la porta così ma io sto morendo di sonno ragazzi non ce la faccio più sto morendo ma tra l'altro mi fanno male io dicevo a franci mi continuo a lacrimare di brutto gli occhi che adesso hanno hanno smesso un po' quella è la prima vera può essere può essere qualche forma allergica anche se magari lo sai da dire a parte il naso che mi si tappa un pochettino ma secondo me sono allergico a qualcosina negli ultimi anni va beh succede sempre sto periodo ma ti giuro stamattina mi sono svegliato volevo vedere gli oscar quello che mi ero perso continuavo cioè non riuscivo mi continuavo ad asciugare perché ero tutto è la prima vera non può essere può essere ma costa tanto amore vedere le allergie invece ho sentito questo dolore invece qua l'allergia al cuore io sapevo che costava parecchio l'allergia al cuore cos'è che hai detto? no il dolore però mi sono misurato la pressione un attimo fa e ce l'ho credo per credo la migliore possibile immaginabile che è 110-70 che dovrebbe essere la cosa perfetta magari è un ago infilzato qui così a caso come gli hai arrivato? non mi sono mai accorto ma c'è questo spillo un pochino mi fa male costa tanto anche se non beh lacrime non so cioè non mi pare costi tanto in realtà eh può essere totalmente al costale ma potrebbe essere sempre dovuto al reflusso comunque voglio tranquillamente essere io spero andiamo a andare a fare la gas in un certo senso non vedo l'ora anche se ho paura ma non vedo l'ora di farla così ma vedo tutti i colori sballati la chat fammi aggiornare un attimo vedo il giallo color cacarella il rosa vabbè dai 30 ai 70 euro pensavo di più eh vedi in maniera privata sto controllando perché non faccio più niente non in privato ormai vedendo i tempi non puoi eh no devi controllare devo controllare urgentemente un'allergia le va bene per il 2026 eh no se devo morirci non naturalmente ho trovato l'esame della gastroscopia l'ho trovato a due mesi da quando l'ho pronotato quindi va va fa anche bene siamo proprio degli anziani comunque eh smettiamola non è detto anziani guarda che anche i giovani fanno sì ma io questa gastroscopia dovevo fare la 10 anni fa dovevo fare lunedì mattina parlando di gastroscopie e terapie Moro hai ragione positivi positivi non si può andiamo eventualmente non si può chiedo scusa no vabbè era per dire siamo positivi no nessuno di voi sotto i 30 grazie al capo eh no siamo anziani ormai ormai ragazzi sarà sempre peggio Francia è vero però siamo sempre più belli faremo poi le live da col medico tutte le volte con il medico però è lunedì mattina quello che serve per curarsi il medico non il succo di frutta ricordiamo è lunedì mattina è lunedì mattina è importante per una cosa il termogiornale sigla incredibile ragazzi bentornati in linea diretta con i termosifoni sì io inizierei con una piccola notizia extra poi non non voglio neanche commentarla io ve la dico dai io ve la dico poi eh non non ne parliamo promesso Moro poi non ne parliamo non ne parliamo più io ve la dico perché per dovere di cronaca ve la dico perché non ne parliamo poi perché preferisco di no eh Ceccherini hanno intervistato Ceccherini per gli Oscar era lì per Io Capitano e gli hanno chiesto un'opinione e lui ha detto tanto vinceranno come sempre gli ebrei io chiuderei qui il io chiuderei qui ehm perché vincono sempre gli ebrei gli Oscar Moro ti ho detto non voglio commentare questa cosa andiamo andiamo avanti analizziamola a fondo ragazzi no 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 non l'analizziamo proprio niente eh eppure ha smesso di bere questo è il discorso comunque andiamo 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 era meglio comunque che dobbiamo fare che dobbiamo fare andiamo avanti si può andare avanti dai si sarà la motivazione della lore dietro scusami ma perché credo intendesse che se tu fai un film sull'olocausto attiri più pubblico perché è un po' ma non c'era ma c'era sì c'era la zona di interesse la zona di interesse che ha vinto tra l'altro infatti da questo punto di vista ci aveva preso però ha vinto non perché gli ebrei ma perché era un film di caratura ha vinto perché nella candidatura dei film internazionali sì ma è un film che a detta di tante persone era molto 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 valido sì c'era Io Capitano c'era un film uno francese uno spagnolo uno tedesco c'era quello della neve con Adam Driver come si chiama Zonof Interest che era quello inglese Zonof Interest era candidato in altre trenta categorie quindi mi aspettavo mi aspettavo un grazie al cazzo che vincesse quello io posso capire che a volte alcuni film che hanno parlato dell'olocausto hanno fatto incavolare alcuni perché erano fatti ad hoc per per gli oscar sul bambino col pigiamarighe che piaccia o meno ha avuto un po' di critiche di questo genere però Zonof Interest secondo me anzi è stato un modo di narrare la Shoah diverso comunque sia quindi poi non l'ho visto quindi non voglio parlare più di quello che si è visto nel trailer e nei vari trailer però comunque già un approccio diverso poi che ti possa piacere o meno quello è soggettivo però a livello di idea mi è sembrata un'idea carina far vedere cioè farti assaporare quella quei momenti terrificanti in un altro modo rispetto agli altri poi chiaramente c'è gente che l'ha affiancato al pianista a Schindler List io essendo tra i miei due film cioè tra i miei film preferiti sia il pianista che Schindler List voglio proprio vedere però hanno detto tanti che è un film di caratura quindi boh vediamo cioè nel senso quello che dico io non ha vinto io capitano non è che l'ha andato a un a un filmaccio cioè mi sembra un film abbastanza che sia cioè che è piaciuto molto per vari aspetti poi vabbè ne parliamo dopo nella tranche allora vediamo un po' le notizie dell'oggi eh Firenze si nascondevano nei frigoriferi per rubare elettrodomestici colpi anche a Lucca dei grandi eh ma le trovano tutte ragazzi ragazzo di undici anni arrestato alla guida di una BMW X5 in autostrada stava trainando una roulette rubata una roulotte rubata poi un BMW X5 grosso ci arrivava vabbè boh ottimo lotta ai piccioni a Torino potranno essere catturati fucilati o uccisi dai rapaci perché così tanto eh ci sarà una sovrappopolazione ma poi scusami fucilati se sono tutti in piazza come fanno non credo che arriva uno in piazza col fucile inizia a sparare i piccioni eh ma è legale sì però signore sono qua con mia figlia si vede a sparare in cielo e non credo che potranno essere catturati fucilati eccetera dalle persone così uno prende un fucile e va in giro a sparare non credo sia che non sia più un attimo più controllata come cosa è perché il consigliere ha detto che è necessario il controllo della specie perché c'è troppa densità di popolazione sono direttamente i rapaci che prendono imbracciano le armi allora poi in Rocketbird lì cos'era Rocketbird succedeva sì Torino il tassista rischia di far saltare un trapianto per 6 euro la cooperativa individuata l'autista ora vogliamo capire ha fatto storie perché mancavano 6 euro di paga e lui doveva però dovevano andare a fare il trapianto stavano rischiando credo non posso leggere un trapianto di rene arrivato all'ingresso dell'ospedale ma il cinquantenne aveva solo 14 euro 6 in meno rispetto al cosa della corsa ha provato a cercare senza successo un banco ma funzionante poi ha chiesto al tassista di aspettare ancora per provare dello sport all'interno delle molinette delle molinette delle cose non so cos'è l'ospedale forse l'ospedale delle a me c'è scritto alle molinette cioè nel trafiletto che ho letto io c'era scritto alle molinette per disponibilità non so secondo il tag sarebbe ripartito con il suo zaino rosso sul sedile posteriore gli ha rubato lo zaino quindi c'erano tutti gli effetti del muratore compreso i documenti e non so poi lì in cioè che cazzo fai per 6 euro dice anche vaffanculo e che chiaramente anche lui non è che potrà smettire che cazzo non so è che una truffa è difficile che ti danno un po' di soldi non tutti c'è l'ospedale vabbè chiaramente hai lavorato per il cazzo vabbè comunque topo spunta in platea durante lo spettacolo di vincenzo salemme al teatro sistina vi rimborserò di tasca mia non c'è nessun video né foto né nulla però cazzo oddio la mia schiena vabbè per un topolino e poi hanno parlato anche di strade del fatto che le strade fossero immerdate vabbè lì non c'entra loro chiaramente vabbè rimborserà di tasca sua ma poi penso che manderà in culo quelli del teatro salemme io penso che cioè allora ma che rimborso deve pagare lo stronzo ma che cazzo c'entra lui signor scusa no ma che rimborso deve pagare lo stronzo credo quello del teatro intenda o quello che ha visto cioè non credo ce l'abbia con salemme o con quello del teatro ma non ho capito cosa vuol dire ha scroccato il topo che ha scroccato il biglietto stavo cercando di capire chi è che avesse scroccato il biglietto nell'articolo no comunque vabbè sì credo che comunque sia cioè allora non è che loro puliscono il teatro gli attori sì al massimo posso sistemare due robe ma credo che comunque quelli del teatro devono tenere pulito il teatro sì dico salemme avrà fatto il culo poi a quello del teatro per la roba anche perché poi lui che deve fare lui recita a meno che il teatro non è suo che può essere non lo so comunque c'è anche il video qui vorrei vedere sì perché c'è un aereo che perde una ruota del carrello dopo il decollo e che cade in un parcheggio ha distrutto delle auto completamente sì eh eh sì la ruota dà in altissimo oddio ragazzi oggi sarà dura ha distrutto veramente tanto le auto eh beh sì mamma mia poi era un'altezza già comunque importante grazie 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 8 dollari come le gambe delle donne credo ti è partito un maius per sbaglio quindi non sono 8 dollari effettivamente non credo ancora nessuna prova di attività extraterrestre sulla terra il nuovo rapporto del dipartimento della difesa degli stati uniti ha chiarito la natura di molti presunti avvistamenti ufo negli ultimi decenni in breve non erano alieni finalmente ha fatto un comunicato per dire no tutto quello che ci avete passato non è o comunque abbiamo trovato in questi anni non è non significa niente non vuol dire che ci sono forme di vita va dai genitori novantenni e li trova in salotto a chiacchierare con i ladri che bella casa lui ha 92 anni lei 90 la figlia subito dopo ha chiamato aiuto alle forze dell'ordine per denunciare l'episodio che risale al mese di novembre e quanto ci hanno messo per agire scusami no quali sarà l'articolo che è venuto fuori adesso ma parla comunque del mese di novembre anche se fosse stato il mese successivo comunque tantissimo ma no ma l'ha denunciato di subito è l'articolo che la notizia è venuta fuori adesso tutto si è risolto con uno spavento gli stessi anziani una volta che hanno ascoltato le spiegazioni della figlia hanno capito che poteva andare a finire molto peggio con un furto nel migliore dei casi o anche con una rapina ma non ho capito come mai sono fermati a parlare io volevo sapere di più di questa cosa qua ma di cosa io voglio sapere più che altro cioè semplicemente fingevano di essere delle altre persone probabilmente uno parlava e l'altro rubava tutto ci stavo provando vabbè forse erano tipo che cazzo ne so ma magari quelli che fingono che ti vendono le robe ti entra in tua casa intanto uno ti svaliggia a casa e l'altro ti intrattiene il pubblico probabilmente vabbè gaff di madonna in concerto sgrida un fan perché non si alza in piedi ma lui sulla sedia a rotelle che figura di merda tolgo il video che l'ho visto da tgcom che figura di merda sì c'è proprio lei che fa allora poi azzeria multipla si ha fatto una piccola una grande figura di merda vabbè però ci può anche stare ma che ci può stare non si vede neanche eh ho capito ma avrai i suoi motivi se una persona non si alza in piedi che cazzo te ne frega più che altro di solito negli concerti non a tutti perché dipende dal locale ma c'è la zona disabile per cui se tu ti indirizzi verso la zona disabile vedi che uno non si alza c'è la zona eh in alcuni non in tutti i posti ma c'è in alcuni posti cioè in tanti posti sotto il palco c'è proprio la zona disabile e questo semicerchio sto seduto che cazzo vuoi da romper le palle però sì diciamo che non cioè stai zitta ecco evita per sicurezza comunque fermata ancora la donna dalla patente firmata con il sangue era una donna l'altra volta vabbè fa parte di un'organizzazione che rifiuta lo stato è fatta eh vabbè all'aki oserei dire ragazzi eh si l'aveva letta dalla signora 65enne vabbè eh chissà possiamo passare alla notte degli oscar o ne vuoi parlare dopo ma tanto la tranche vabbè c'è ci sta quindi possiamo parlarne già in questa tranche senza problemi c'è stata appunto la notte degli oscar dove gli unici film ah la sigla del termolullo del termovideolullo vabbè non c'è niente videogiochi eh vabbè però nelle tranche videogiochi parliamo sempre dei film vabbè io sto guardando come l'oscar hanno la tuta gold l'oscar effettivamente anche godzilla quando hanno premiato come miglior effetti speciali godzilla era gold sì 6 7 7 ne ha vinti openheimer vabbè allora abbiamo come vabbè miglior film ha vinto openheimer abbastanza chiamato si diceva si diceva da un po' che avrebbe potuto vincere openheimer è arrivata la conferma miglior regia nolan sempre per openheimer che tra l'altro lui era stato nominato altre 8 volte non aveva mai vinto finalmente ha vinto qualcosa anche nolan miglior attore kilian marphy o cillian marphy ha fatto la battuta anche jimmy fernand che lo dico un sempre diverso vabbè e appunto il attore di openheimer miglior attrice emma stone e ho goduto c'era anche la gledson anche perché quella di openheimer emily bland si ci poteva stare un'attrice molto brava non so come è andata in openheimer però è un'attrice molto brava ma non l'hai ancora visto? no 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 ancora non ho avuto tempo miglior attore non protagonista Robert Downey Jr e qui ho goduto veramente tanto anche perché secondo me gli altri erano anche Robert De Niro ha fatto un lavorone in killers of the flower moon però proprio anche a parte che ha fatto l'iron man move ha fatto con le due dita alzate ha fatto proprio iron man però è stato proprio figo solo meritato tra l'altro mi ha fatto ridere che non riesce a uscire dal personaggio mi ha indicato Robert Downey Jr mi ha fatto ridere che chi lo ha presentato non era mica Justin Hammer che era in iron man 2 l'altro non era l'attore che ha fatto Justin Hammer vabbè comunque è stato figo in generale comunque tutto quel momento miglior attrice non protagonista ha vinto The Vine che era quella di Randolph che è quella di The Old Overs troppo non ho visto miglior film internazionale della zona di interesse miglior film d'animazione ha vinto Ragazzo Lairone purtroppo Miyazaki non poteva essere lì anche perché non c'ha un'età abbiamo visto nell'ultima intervista che ha messo anche abbastanza potete mandare un messaggino l'ha mandato negli scorsi giorni e avrebbe detto le stesse cose penso quindi non ha detto niente poi vabbè ha vinto 20 giorni a Mariupol quello insomma ucraino il documentario ucraino è stato anche abbastanza emozionante il suo quando ha ritirato il primo perché ha detto comunque che avrebbe preferito non doverlo prendere questo Oscar perché avrebbe significato che non c'era tutta la questione in Ucraina quindi insomma comunque racconta di quello miglior fotografia ha vinto Oppenheimer e migliori costumi ha vinto Povere Creature anche qui Povere Creature io sono d'accordo con tutti i premi che gli ha dato forse con i migliori costumi Killers of the Flower Moon beh aveva dei costumi allucinanti povere creature però era molto figo per carità di Dio però per esempio in quel caso anche Barbie Killers of the Flower Moon però Killers of the Flower Moon e quelli lì e Killers of the Flower Moon sono dovuti andare a prendere tutte quelle cose western particolari mentre su Povere Creature hanno proprio creato da zero i vestiti quindi non di tutto però alcune cose erano erano cioè ci stava perché appunto per non per riprodurre dei vestiti che c'erano no Barbie dall'epoca ma proprio per farli no no cioè meritato va benissimo solo che secondo me anche Killers of the Flower Moon poteva tranquillamente vincere e guarda avessero dato qua Barbie anche potevano farlo però ci sta ci sta per carità di Dio vediamo un po' come miglior montaggio c'è sempre Oppenheimer miglior make up eccetera ha vinto Povere Creature qua anche solo per come hanno conciato il povero William Defoe meritava tantissimo miglior e colonna sonora ha vinto Oppenheimer la miglior canzone ha vinto quella di Barbie di Billie Eilish che in realtà cioè sono partita è partita la cerimonia e ha cantato lei dal vivo ho detto boh cioè mi sembra un po' il segreto di Pulcinella che possa vincere Billie Eilish però effettivamente ha vinto Billie Eilish vediamo vabbè appunto miglior corto d'animazione War is Over anche questo qua non l'ho visto ma ne hanno parlato tutti bene vediamo altre cose interessanti miglior sceneggiatura non originale ha vinto American Fiction e originale ha vinto Anatomia di una caduta che da quello che ho capito era una storia d'amore cioè tra due persone che è finita non l'ho visto però mi pare parlasse di una storia d'amore conclusa comunque incasinata basta ho detto tutto gli effetti speciali si lo dicevo all'inizio che ha vinto Godzilla tra l'altro erano presi benissimo loro già per la nomination erano saltati c'era il video di loro che saltavano negli uffici contentissimi figurati per aver vinto insomma tanta tanta roba e basta è stata una è stata una fino a dove l'ho visto io quindi verso le due due e mezza è stata una diciamo una cerimonia abbastanza carina il momento John Cena è il mio momento preferito ho perso una ciabata molto divertente ok no dicevo prima con Marco tra l'altro che perso una ciabata guardando gli Oscars e così l'hai fatto tre giorni da noi lo spero anch'io che torni le battute che fanno gli Oscar a me imbarazzano veramente quella di Robert Downey Jr. era un po' oltre che ha fatto Jimmy Fallon gli ha fatto addirittura così per dire cazzo ta bitcar magari sono in confidenza però eh ma perché sono tutte in confidenza nel senso sono tutte quante in confidenza però sembrano tutte costruite cioè sono tutte cioè per forza sono costruite però non è che nascondono troppo cioè sono quelle battute da boh del cazzo che tutti poi tutta la platea ride perché deve ridere boh è tutto un imbarazzo cioè veramente mi hanno fatto rimpiangere Sanremo capito tanti hanno detto c'è Ricky Gervais era meglio in realtà anche con Ricky Gervais per quanto a me faccia ridere non è che ho mai riso tanto ma non è il problema non è neanche il problema di Jimmy Kim o di chi c'è è proprio l'atmosfera degli Oscar che è quella lì forse prima ho detto Jimmy Fallon però era Jimmy Kim e l'intendevo ovviamente sì beh sono i due comunque che fanno queste cose qui hanno più o meno lo stesso modo comunque no sì sono d'accordo non è che ti fa non ridi mai particolarmente anzi spesso cringi dici ma che sta dicendo ma stai zitto non fanno mai vedere trailer non è come no è tutto lì è proprio una cerimonia c'è tutto quello che ti devono dire tu lo sai già gli Oscar è già uscito e l'hai già visto e l'hai vai ma non funziona cioè non funzionano così i film beh vabbè qualche trailer potremmo far vederlo comunque eh no no perché dovresti dare priorità a determinati film rispetto ad altri non è come i videogiochi che ne escono 5-6 nei film ne possono uscire anche 20 che fai 4 sì gli altri magari fai il trailer di chi ha vinto magari c'è già pronto il trailer del nuovo film che sta facendo eh no ce lo butti eh ma non ha senso non è promozionale gli Oscar no esatto gli Oscar c'è l'accademia che premia quello che tu hai già visto quindi non non è proprio pensata come i Game Awards sono proprio un altro tipo di poi ripeto i Game Awards servono anche per proprio perché non escono tanti giochi quanti film di quelli grossi intendo ovviamente tanti giochi ne escono sempre durante la sì no se parliamo degli indici però nel senso a livello di caratura è molto più tempo che per fare un film a livello di caratura comunque sia non è che ti presentano 20 AAA invece magari riescono 20 film fatti da da gente comunque per fare un gioco ci mettono 5 anni ormai per fare un film ma poi sono proprio pensati in un modo diverso cioè l'Oscar è la premiazione ed è una serata per far vedere cosa c'è stato durante l'anno di livello di Game Awards è quello e anche pubblicità è proprio pensati in un altro modo poi per carità ovviamente se tu mi premi un buon regista quel regista sta avendo anche pubblicità però quella è una cosa di conseguenza non è una roba che fai c'è chiaro che Nolan che ha vinto il film che ha vinto il mio regista ha anche una grossa pubblicità adesso grazie a questa cosa però non che ne avesse bisogno però ovviamente quella è una conseguenza e Dune secondo me almeno costumi e queste cose qua anche regia potrebbe anche vincere con il miglior film non lo so bisogna vedere ancora siamo all'inizio ma riesce una bomba incredibile Dune può essere candidato in un sacco di roba tipo dalla dalla scenografia ma tu ma puoi essere anche candidato per il miglior film solo che ancora siamo all'inizio vai a vedere quanti ne nominano cioè poi vincerà sicura almeno due o tre premi li vince Dune tra music io metterei più regia o costumi io metterei regia costumi costumi sì make up magari sicuramente fare anche di meglio di costumi per quanto siamo belli quelli di Dune secondo me puoi fare di meglio con un altro film cioè tipo fosse stato quest'anno con povere creature avrebbe vinto comunque povere creature sì forse sì forse sì beh considerate che comunque il primo Dune vinse un bel po' di roba sì sì vinse parecchie roba tra l'altro gli analisti dicono che si avvicinerà i 800 milioni però scusami non eravamo già a 700 mi sembra un po' poco e beh ma sta calando cioè è già fuori da un po' eh lo so però siamo già a 700 milioni secondo me guarda io io avevo detto 800 un miliardo naturalmente no anch'io avevo detto che non arriva al miliardo anch'io avevo detto 800 850 però mi farebbe piacere arrivassi al miliardino ma più che altro perché è un film della madonna anche solo tecnicamente più tempo passa più c'è meno guadagni l'unica cosa che non sta succedendo così è per quanto riguarda i media generali è il Divers che effettivamente più va avanti il tempo più aumenta i guadagni è incredibile c'è più gente che sta guadagnando sta vendendo più adesso che quando è uscito eh Tabith che in realtà c'è il Dune come Colossal si avvicina a quelli che hai citato ovviamente sono sempre parole grosse però a livello di di potenza del film tecnicamente quello che mi ha parlato anche settimane fa che non esce da un botto di tempo un Colossal e forse non c'è stato un film che ne ha vinte così tante mi pare ci fosse stato un film recente che ne avesse vinte così tante no ma io noi si parlava di Colossal Colossal proprio a livello del signore eh no si che aveva vinto scusa mi piatto un attimo si ma di cose che hanno vinto premi c'è stato quello che mi ricordo anche io no che ne aveva vinti veramente tanti si si mi ricordo anche io però non era cioè non era il Colossal inteso io parlavo io parlavo proprio di sai una saga intera no mi sto confondendo perché l'ultimo che ne ha vinti così tanti era The Millionaire che era il 2008 e poi c'è Oppenheimer quindi quelli che erano vinti undici sono il massimo appunto del 2003 del signore di anelli basta gli altri sono tutti sotto ah no c'è Everything Everywhere l'anno scorso anche lui set Gravity dal 2013 set cioè il massimo è stato set recentemente non più di set no The Millionaire con 8 vabbè gli altri sono tutti più vecchi Mad Max dal 2015 era ventisei Avatar non ne ha vinto perché pure era ventisei no forse era candidato ma praticamente Avatar è dell'anno scorso no Avatar è dell'anno scorso e non era candidato a niente quest'anno no no era dell'anno scorso candidato l'anno scorso sì c'era Cameron anche se non sbaglio no non c'era Cameron no forse non c'era Cameron candidato che non me lo trova Avatar incredibile io sono sicuro che era candidato in qualcosa mi ricordo in cosa Avatar non ha vinto no che non abbia vinto è possibile che non fosse candidato in niente mi fa strano ma anche il primo non ha vinto niente no anche il primo non è tra i primi film cioè sotto i 6 vinti ok per me in qualcosa era candidato pensavo a avere 6 vinti di più pensavo eh boh cioè essendo non lo so magari ha vinto se non fosse candidato mi fa strano più che altro cioè ripeto che non abbia vinto in realtà abbastanza non è che mi scandalizza scandalizza molto però che non ci fosse neanche nomination mi fa strano anche effetti speciali o le robe lì niente è possibile allora Avatar ha vinto 3 Oscar il primo miglior fotografia scenografia effetti speciali non ha vinto il miglior film chi l'ha vinto il miglior film ma quello lì a Zawana che il resto attori su avatar è un po' difficile però volevo capire che c'era c'era difficilmente non lo conosco The Art Locker non lo conosco mica c'era Bastardi senza Dio quell'anno c'era District 9 c'era App mica App era candidato al miglior film ma il fatto è che coso cioè dopo anche dopo il discorso dell'anno scorso del Toro io continuo il film animazione diverso da miglior film non ha senso secondo me alla fine è una tecnica poi la scenografia ce l'hai la regia ce l'hai quindi boh secondo me ha senso magari che fai tutti e due ce lo metti sia da una parte che dall'altra però continuare a regarli nella cosa di serie B mi sta un po' sulle palle me l'aveva detto anche Del Toro Avatar 2 ha vinto uno ha vinto come con Pinocchio è andato su dicendo sì però era candidato a miglior film ha vinto i miglior effetti speciali e basta ha vinto solo quello era candidato il miglior film miglior scenografia miglior sonoro però ha vinto uno solo se non avesse vinti di più Avatar sinceramente no io in realtà a me non so ma perché i film quelli da diciamo da grande da botteghino non è che sono beh alla fine Titanic era da botteghino e ha vinto no ma Mary però però non c'entra sigarelli è da botteghino la 2011 cioè il film d'animazione tu stai proprio mettendo in un'altra categoria non va bene perché l'animazione è una tecnica per narrare una storia e allora Avatar è fatto tutto in CGI e allora che vuol dire quello lì allora non dovrebbe stare lì perché è tutto in CGI ed è un'altra tecnica ma infatti l'ha fatto un discorso l'anno scorso del Toro dicendo sì sono contento di aver vinto però ogni volta che palle che quando fai il film d'animazione vieni sempre visto come se fosse inferiore no cioè comunque sia una tecnica per raccontarti una storia come ci sono varie tecniche per raccontarti delle storie negli altri film poi al massimo fai comunque tieni la categoria ma lo metti anche dall'altra parte secondo me avrebbe senso perché forse hai meno poi capisco il miglior attore di un film d'animazione fai più fatica ad arlo io sono d'accordo effettivamente col fatto che a questo punto anche un Avatar non dovrebbe stare nelle cose così o un film con molta CGI dici scusami anche lì c'è della tecnica più che altro tipo la capacità attoriale magari fai più fatica non lo so eh no c'hai meno elementi sì magari sì non lo so però metterlo almeno il miglior film la scenografia la fa comunque il disegno quindi è difficile cioè al massimo no la regia c'è nei film d'animazione no regia cioè ci sono tantissime cose l'unica cosa che posso come dicevamo prima per il miglior attore ok magari lì no però nel miglior film mettilo cioè porca vacca ci sono dei film d'animazione che ti raccontano delle cose in una maniera già eh sì cioè non è giusto che non siano nel miglior film perché è un film cioè è un film c'è della regia c'è della sceneggiatura perché non è nel miglior film vi ripeto recuperatevi anche il discorso dell'anno scorso di del Toro però il doppiaggio è una capacità attoriale come una persona che viene a dire ho capito cosa vuole dire Moro cioè comunque sia tu vedi un attore che recita pure crudo vedi tutto l'aspetto dell'attore nel doppiaggio non vedi un'espressione facciale sì vedi l'animazione ma quello fa parte dell'animazione più che del poi sono d'accordo esatto che tipo Spider-Man e il ragazzo l'airone potevano anche loro stare ma io spero che prima o poi inizieranno a farle queste cose cioè poi capi ripeto non dico di metterlo in tutte le categorie non c'entra non hanno mai provato ad animare un personaggio non capiscono il lavoro che ci vuole non giudichi un secondo me non ci hanno proprio pensato lo tengono lì perché dicono è d'animazione quindi un lavoro per quanta fatica c'è stata messa giudichi il lavoro per come è venuto fuori te ne frega un cazzo di quanto si sono sbattuti per farlo non devi giudicare quanto si sono rotto il culo per farlo io ripeto secondo me tra un po' si accorgeranno e inizieranno queste cose qui poi io sì sì no per quello sono d'accordo stavo semplicemente facendo l'avocado del diavolo per capire quale potrebbe essere un motivo di nel senso però come diceva Marco a quel punto nemmeno un avatar dovrebbe avere cioè dovrebbe essere giudicato un film d'animazione perché effettivamente quello è con una tecnica di animazione diversa ma quello è no poco no magari però secondo me si accorgeranno cioè è un discorso che stanno sentendo fare anche da grandi teste non da noi che non siamo nessuno per loro è 30 anni non lo so magari cambiano magari sì magari no però io ti dico c'è un film d'animazione come ma mettiamoci anche dentro Spider-Man non tanto ragazzino mettiamoci anche Spider-Man per il fatto di aver creato delle cose nuove eccetera il fatto che non sia nemmeno nel miglior film o anche il ragazzo l'aerone comunque con i suoi simbolismi eccetera a questo punto non metti anche altri film scusa perché quello deve essere relegato è come se tu stessi dicendo proprio vabbè che lo stai relegando a quello degli sfigati infatti anche lui ha detto ha preso il premio e ha detto sì però ogni volta siamo sempre dall'altra parte se animiamo delle cose non facciamo è un po' un dispiacere poi non è l'inocchio non è niente Doglia non è nessuno l'inocchio poi capisco ripeto un conto e dici non gli do il miglior attore a quello che ha fatto solo il doppiaggio perché voglio vedere la performance al 100% lì posso capire ma non metterlo il miglior film o sceneggiatura la trovo in quale film d'animazione c'è il motion capture no magari l'hanno anche usato eh Moro credo che si usi in Spider-Man o il ragazzo l'aerone ci sia il motion capture non dico quale film che non voglio dire castronerie ma secondo me l'hanno usato in qualche film sì ma non in questi in questi tipi di film se usano il motion capture di solito sono film in CGI animati in 3D secondo me ci sta che lo metti che fai la categoria animazione non dico di toglierla perché magari è giusto dare spazio anche ad altri film d'animazione che non potrebbero per motivi di spazio stare nel miglior film però che poi lì uno potrebbe dire sì però se tu metti un film che nel film d'animazione anche i miglior film capisci che lo ritengono superiore agli altri film d'animazione poi un segreto di Pulcinella ti vince quello dell'animazione questo magari potrebbe essere un problema effettivo però secondo me se tu mi stai narrando una storia con una bellissima sceneggiatura una bellissima regia e tutto quanto perché non può essere tra i miglior film quanti film d'animazione ci sono che sono meglio di film normali per importanza eccetera è pieno però ogni volta come nei videogiochi il miglior film cioè la categoria proprio principale è quella che tecnicamente è quella più del cazzo perché non è che può cioè ci sono tutte le categorie che guardano ogni aspetto del film poi quella generale essendo generale già di base è una stronzata un pochino più o meno quindi tanto vale appunto non li classificare mettili nei film io sto dicendo proprio di non dargli una cioè non devi per forza considerarlo in una categoria mettilo nei film cioè chiaramente poi tu hai detto Roger Rabbit e Space Jam chiaramente Space Jam non vincerà mai un miglior film però sono dei film hanno una bella regia boh buttaceli un conto è non metti videogiochi perché il videogioco è un altro media ma siccome qua si tratta dello stesso media perché tu vai al cinema a vedere un film d'animazione vai al cinema a vedere Oppenheimer poi chiaramente ci sono dei lavori diversi ma sono tecniche tutto motion capture infatti non è un film non è tutto motion capture cioè tutte le riprese sott'acqua c'è la tecnica nuova ma è tutte le riprese che sono andate nelle fosse delle Marianne comunque lavorone motion capture poi se tu dici quello che nuota beh certo quello lì per forza devi fare il pupino blu però cioè nei film d'animazione quelli disegnati lì non c'è la motion capture come la fai poi probabilmente c'è il modo anche lì di farla ma non credo la usino scusami ma se tu hai una bella ti what se tu hai una bella regia in animazione è una bella regia come che ne so povere creature sono comunque due regie la tecnica poi è diversa ma sono due regie puoi valutare quale regia magari ti è piaciuta di più o degli aspetti della regia poi ripeto non dico tutte le cose perché come dicevamo miglior attore con la cosa animata magari è più difficile non è facilissimo però in miglior film boh io sono dell'idea che possiamo iniziare a mischiare le cose poi vabbè ognuno c'ha la sua idea ci mancherebbe altro no ma vorrei guardare solo barbie non hai tu hai guardato solo penheimer io di film carinati si io guardo solo barbie e spider ma perché mi interessava penheimer a me dispiace non ho visto ragazzo l'airone non ti interessa vedere tutti no quello sarebbe dare un contentino T-Wat cioè si incazzano ancora di più secondo me fan bene perché lì proprio mi stai dicendo vabbè prendimi per il culo è il motivo che dicevo prima che la categoria miglior film come nei giochi miglior gioco è quella che ha meno senso è lì solo perché perché sì devono dare il premio quello grosso ma non è vabbè ci sta avere comunque due opinioni divergentici mancherebbe molte sequenze è molto lento ma guardate miglior commedia per esempio non c'è ma quali non puoi giudicarli come fai a giudicare il miglior stuntman non puoi cioè eh ma devi fare troppe categorie poi potrebbe fare la categoria per qualsiasi stronzata di un film ti ripeto potresti fare miglior commedia perché ogni volta si dice ma per dire il motivo tra l'altro negli oscar non ci sono le serie tv per dire pensa se ci fossero anche quelle o metti le commedie a parte che non basta il teatro però mi pare che golden globes emmy cos'altro c'è no i saga i saga no golden globe emmy cos'altro c'è che c'è le serie tv ma forse anche gli emmy non hanno le serie tv no l'emmy ce l'hanno sì sì gli emmy ci sono non mi ricordo guarda proprio la loro che è golden globe è proprio la loro i bafta ok i emmy sono televisivi comunque un po' di statistiche sugli oscar comunque il discorso è che adesso anche a livello pratico non credo che non credo che il teatro abbia i posti per ospitare tutte queste categorie no e comunque non puoi fare tutto qualcosa devi tenere fuori sapete qual è il miglior film che ha vinto più oscar rispetto alle candidature il miglior film che ha vinto più oscar rispetto alle candidature è stato candidato in un tot e poi ne ha vinte un tot qual è il migliore di rapporto tra questi è forse il signore dei anelli esatto perché è stato candidato in 11 ne ha vinti 11 cioè tutte tutte quelle in cui era candidato è l'unico eh no ma mi ricordo che c'era perché ad esempio Titanic era candidato in 14 e ne ha vinte 11 ecco per esempio Lord of the Ring mi pare che una delle robe che criticarono è che vinse le musiche quando c'erano altre musiche che venivano lì c'era stata un po' di casino mi sembra con le musiche con la colonna sonora perché c'era un altro film che aveva delle colonne sonora altrettanto valide mi pare che lì si erano incazzati ti dico subito mi pare premio oscar miglior sonoro miglior colonna sonora io mi pare fosse colonna sonora che ci fu il casino il casino insomma qualcuno era nel 2003 prova a vedere magari mi ricordo male 2003 c'ha 21 anni il signore degli anelli se lo riguardi oggi dai 5 eh ci ho lavorato tanto ah no 2004 ok c'era Big Fish il ritorno a Cold Mountain la ricerca di Nemo e la casa di sabbia e nebbia non mi ricordo quale fu non mi ricordo quale fu il casino che venne fuori però mi ricordo che tanti dissero eh ma allora diamo tutto a loro ma non mi ricordo mi ricordo cioè sto tirando fuori tra l'altro sono usciti in 3 anni consecutivi signor anelli ho visto adesso per la compagnia dell'Anel che ha vinto l'Oscar nel 2002 vabbè se per quello salvo un sacco di film del passato cagano in testa quelli di adesso il fatto che siano più recenti non vuol dire che siano fatti meglio anzi questo vale per tutte le altre anche per i videogiochi può succedere per i fumetti cioè questo vale per tutto il nuovo non vuol dire che è meglio anzi spesso è magari se riciclano solo idee poi dipende magari con i videogiochi c'è già una tecnologia che ti fa vedere un passo in più spessosi purtroppo sapete chi ha vinto più anche i videogiochi lo stiamo vedendo è che i tripla sempre caccaro ultimamente sapete chi ha vinto più Oscar in una stessa cerimonia una persona però non film una persona non saprei chi potrebbe essere il signor Walt Disney che ricevete 6 candidature e ne vinse 4 nel 54 ovviamente poi l'ultima è sapete chi è stato candidato più volte? adesso neanche li candidano quelli della Disney in generale chi è stato candidato più volte in assoluto nei allora Nolan ne ha avuti 8 o 9 abbiamo già visto pensate bene perché le candidature possono essere anche non di registro sto pensando più a una persona io no no parlo di persona io sto pensando a una persona infatti come persona bocce non in una stessa cosa in generale in tutta la storia degli Oscar la stessa persona quante volte Steven Spielberg Steven Spielberg DiCaprio siete fuori strada Al Pacino bravo D'Olio John Williams con 54 candidature beh cavolo ci sta grazie New Zealand welcome back Al Pacino quanto è avuto ma praticamente Al Pacino ieri ha fatto ha sbagliato tutto perché lui doveva dire il miglior film è stata la roba più anticlimatica della storia degli Oscar si è impappinato ha letto male poi ha riletto dicendo sì Openheimer Openheimer ha fatto un vaccaio tutti eravamo ho visto la cosa e c'erano tutte le persone che dicevano quindi era Openheimer l'abbiamo sentito bene non si capiva niente ha veramente sbiascicato ormai non ce la fa ma anche quando era andato ai The Game Awards non ce la fa più non so quanti ne ha vinte però John Williams qui c'è scritto 54 volte ma non si sa quanti ne ha vinte aspetta anche Scorsese ha un'età ragazzi ma non è così ha due anni in meno di Al Pacino Scorsese comunque l'avete visto ieri è la bella Open Panther ha vinto 5 Oscar John Williams su 54 candidature ok un decimo circa un decimo comunque ho avuto la possibilità di vedere sul palco le mie due attrici preferite insieme per un attimo perché c'era quando è salita Emma Stone per ritirare il premio c'era dietro anche Charlize Theron e quindi ho goduto per un attimo ho visto insieme che bello il mio cuore sta bene perché non è John Williams perché John Williams è quello in vita che ne ha ricevuto di più in totale in realtà è Walt Disney che ne ha ricevuto 59 bestia ti ripeto adesso quelli della Disney manco vengono candidati che fanno cagare no infatti va bene Emma Stone è una nuova Charlize Theron bravo ma in realtà secondo me è più brava di Charlize Theron posso guarda lo dico mi butto e dico questa cosa per me Emma Stone è più brava di Charlize Theron per quanto siano le mie due preferite tutte e due credo abbia superato Charlize Theron dopo povere creature guarda che si è dovuta tirare il film tutto sulla schiena da sola ha avuto scene comunque difficili e non è solo il nudo perché poi il nudo lo dicono tutti ma non è solo quello non è il fatto che abbia recitato erano tante scene proprio difficili ha dovuto fare una donna con la testa di una ragazzina che cresceva durante il film e doveva fartelo vedere durante tutto il film cioè è stata una performance incredibile quella di Emma Stone ripeto poi la Gladstone avesse vinto cioè chiunque avesse vinto delle due non era uno scandalo però il fatto che abbia vinto Emma Stone ho proprio tirato un sospiro di Solio perché ho detto è troppo brava io non ce la posso fare sono proprio contento vabbè Charlize Theron è un altro mostro incredibile le amo tutte e due sono veramente le mie due adoro anche ce n'è in realtà una terza però mi scordo sempre il nome purtroppo perdonatemi famosissima Jamie Lee Curtis anche lei l'adoro mi piace tantissimo che tra l'altro c'era anche lei ieri come attrice non protagonista anche lei è fantastica qualsiasi cosa mi dice come melodismo lo può dire in qualsiasi modo è veramente perfetta Jamie Lee Curtis io non la metto anche lei lì poi vabbè se dobbiamo parlare di brave poi ne possiamo tirare fuori veramente a decine fortunatamente nel panorama del cinema però dico le mie preferite ma sottovalutata un pochino è vero ma ha avuto i suoi premi comunque Jamie Lee Curtis tra l'altro sì dovrebbe lei si era proposta per fare la dottoressa coronaria anche Meryl Streep è fantastica nell'ultima stagione di All the Murders in the Building che aveva un ruolo anche diciamo un po' magari fuori dai suoi soliti più o meno perché in realtà ha fatto comunque cose anche un po' così è stata bravissima fantastico è un'attrice sono tutte stiamo dicendo veramente pezzi da 90 vabbè comunque andiamo avanti stavo leggendo un po' rimanendo quasi in tema la notizia di Nobuo Ematsu che ha detto che le musiche dei videogiochi moderni sono noiose dopo essere appunto dopo essere essersi levato di culo dal dal mondo della composizione nei videogiochi eh ma tra l'altro si sta anche parlando del fatto che a proposito di musiche Dragon Quest non si sa se uscirà e se uscirà sarà l'ultimo probabilmente perché non hai adesso c'è quello delle musiche non c'è più Toriyama non c'è più e che caspi dove fai affare Dragon Quest sarebbe una cosa totalmente diverso lo faceva Toriyama comunque no però lo faceva comunque lui il design è tutto suo dei nuovi personaggi del party non credo lo faccia da un po' eh però no no è tutto suo il design del party eccetera lo faceva lui sicuro anche degli ultimi sì 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 ma infatti tanti tanti stanno sperando che avesse finito quelli del 12 perché altrimenti non ha senso cioè ed ecco perché il 12 probabilmente sarà l'ultimo se uscirà perché ancora non stanno dicendo più niente cioè non hai più quello che fa le musiche non hai più quello che ti faceva la parte del design e che sarebbe una roba totalmente diversa non ha senso comunque no la critica di Uematsu è sicuramente un titolo del cazzo che hanno fatto su multiplayer per poi quello che dice lui è una critica un attimo più costruita non è è cambiativo ma non è la stessa cosa le musiche dei nuovi videogiochi fanno cacare ha detto che semplicemente il il problema risiede nei director nei produttori che vogliono semplicemente delle musiche da film quando invece lui dice che dovrebbero avere libertà e tutto perché una volta quando non c'erano tecnologie ma è diverso non c'era la possibilità di fare delle di comporre delle musiche incredibili per i videogiochi ma pensando ai giochi 8 bit e robe del genere la musica era molto più importante di adesso tra virgolette e si aveva una libertà e un modo di farle molto diverse mentre adesso si punta si guarda a Hollywood dice lui mentre è sbagliata come cosa perché comunque i videogiochi sono un media diverso dal film è un discorso un pochino complicato ha un pochino ragione questo non vuol dire che le musiche dei videogiochi recenti fan caccare ci sono delle colonne sonore che fanno rizzare i peli di ogni cosa vedi mi viene in mente Elder Ring adesso che lo sto rigiocando un sacco di titoli indie che forse però lui non puntava a criticare quelli perché forse lì è dove c'è ancora quel cuore lì ma ce ne sono di giochi con una colonna sonora bella comunque Tiwats sì gli ultimi due Yakuza erano senza il creatore sono i più belli però c'è da dire che Dragon Quest ha un impatto diverso cioè Toriyama su Dragon Quest aveva un impatto principale e oltretutto la cosa che ha sempre colpito di Dragon Quest a parte il suo stile erano proprio le musiche venendo meno le due cose principali di Dragon Quest perché una trama alla Dragon Quest te la può scrivere chiunque diciamo che sono avventure fantasy più o meno profonde poi dipende dal capitolo sono i capitoli un po' più profondi però la puoi scrivere se togli il tratto di Toriyama e le musiche che sono quello che hanno fatto la forza di Dragon Quest nel corso degli anni è difficile andarli a ripiegare per carità tanti dicevano eh Toyotaro ha sempre imitato il tratto di infatti con Dragon Ball Super si è sempre avvicinato molto a Toriyama lo fai fare a Toyotaro a parte che bisogna vedere se dice di sì perché comunque vuol dire prendersi un bel lavorone e poi non è detto che comunque cioè secondo me io posso capire che rinunciare al brand sia difficile però piuttosto magari cambi tipo di gioco totalmente però poi vai a andare cioè vai al buio che non sai se può avere successo poi per me a proposito delle musiche Yakuza meno male è rimasto Yakuza a proposito delle musiche di Dragon Quest per me è un punto debolissimo una cosa in particolare delle musiche di Dragon Quest ed era quella delle battaglie che è iconica ma su Dragon Quest 11 mi ricordo era martellante perché ogni ogni singola battaglia partiva ed è un motivetto molto che spiccava e quindi era martellantissimo ogni cazzo di battaglia era sempre la stessa musichetta in tutte le battaglie e quindi era terrificante dopo un po' impazzivi eh sì però quello lì purtroppo non c'è più Toriyama quindi sì a volte magari quando sbagliava Toyotaro lo cazziava Toriyama ma non c'è più Toriyama ragazzi qualcosa devono fare ahimè c'è più che altro ripeto poi lì il discorso è che se neanche è andato molto giovane quindi secondo me non avevano neanche un piano B adesso dovranno un attimo riorganizzarsi secondo me si possono cioè nella mia idea ti direi io farei fermare fermerei Dragon Quest però se devo pensarla come azienda devono rinunciare a un EP che gli fa fare tanti soldi i giochi i Dragon Ball vanno avanti perché tanto lui contava ben poco no sì per Dragon Quest invece lui faceva proprio il design ma è un po' come Dragon Ball Super non si sa se finirà mai quella nuova che sta uscendo dai dai in teoria dai in teoria hanno fatto tanta roba già eh sì però se non è finita è un po' un casino il figlio ha fatto no il figlio credo abbia collaborato con qualcosina ma non è non c'entra niente il figlio cioè il figlio non è diciamo che il figlio spirituale è stato negli ultimi anni è stato Toyotaro cazzo è stato Toyotaro che comunque come diceva Seer spesso veniva cazziata e ripreso da Toriyama perché doveva fare le cose fatte bene come ogni maestro al suo allievo quindi non lo so Dragon Quest sarà un grosso anche perché non hanno ancora detto nulla a parte che in generale non stanno dicendo niente di Dragon Quest anche quando era invitato Toriyama adesso sarà ancora più un punto di domanda perché che fanno chi lo sa vediamo secondo me se lo fanno uscire sarà l'ultimo questa è la mia opinione poi magari non è vero Dragon Ball a prescindere chiuderà qui secondo me Dragon Ball trova un modo di riaprirlo no secondo me fanno quello che ormai hanno annunciato lo fanno e poi basta non farò più niente io l'avrei chiuso io l'avrei chiuso prima ma sì quello l'avevi già chiuso già con GT ma guarda che io anche prima io proprio avrei chiuso vabbè GT ancora andava bene Toriyama l'hanno fatto lavorare tipo 10 anni 15 anni più di quello che voleva lui non voleva più fare niente l'hanno fatto andare avanti vabbè GT non l'ha neanche fatto lui quindi vabbè lui voleva chiudere Dragon Ball molto prima della fine già di Majin Bu Majin Bu poi è venuto dopo Cell è venuto dopo anche Freezer stesso Freezer stesso aveva una necessità di dare una svolta perché volevano puntare più sulle battaglie ma se no lui sarebbe fermato cioè la sua idea era di fare un road movie la gente non apprezzava come speravano ha dovuto cambiare delle cose ma Toriyama guarda che l'hanno sempre spremuto come una mucca lui voleva fare tutte altre cose poi in realtà hanno fatto anche bene perché probabilmente con quello che voleva fare Toriyama non avrebbe fatto il successo che ha avuto poi infatti l'editor adesso mi sfugge il nome ma l'editor famoso di Toriyama probabilmente gli ha fatto ha fatto la sua fortuna che gli ha detto vai avanti fai in questo modo spingi Toriyama per quanto poi sia stato sempre un grande maestro ha sempre avuto la cosa sopra di essere un po' pigro per delle cose perché aveva un talento allucinante ma era un po' pigro prepariamoci che succederà lo stesso con Oda ma Oda tanto quello che dice Oda fanno in realtà quindi Oda ragazzi considerate che Oda siamo già al volume 106 107 quant'è Dragon Ball è finito il Tanko Bon cos'è una 40 qualcosa 42 quindi stiamo parlando cioè in realtà l'hanno già spremuto abbastanza Oda e lui che adesso deve decidere quando finire ha detto che siamo nell'ultimo arco narrativo io non sono in pari ma da quello che so sta venendo fuori molti twist non scrivete nulla vi ammazzo in chat ovviamente però diciamo che uno che per esempio se si parla di Gosho Ayama lui non si sa se vuole finire per esempio lui proprio credo gliene sbatta una sega quello di Conan però Oda penso che ha una certa ecco tanti dicono chissà cosa farà dopo secondo me non fa niente dopo si gode i soldi magari farà qualche storia breve cioè questa è una mia idea e poi non è che lo conosco personalmente Oda è giovane ha 49 anni ma per quello tanti dicono chissà cosa farà dopo ma secondo me al massimo fa degli spin off si trametti anche 5-6 anni per finirlo ancora arriva a 55 è comunque giovanissimo cioè Urasawa ha l'età di mio padre potrebbe tranquillamente godere la vita per sempre non c'è più problema secondo me sì o fa qualcosa di piccolino o sta fermo e non fa niente o si fa qualche secondo me c'avrà un patrimonio di 100 milioni di euro è già da qualche anno che è il più ricco mangaka di sempre ma già da un po' tipo Urasawa ha detto io finché c'è proprio una frase iconica che ha detto Urasawa ha detto ma scusa finché io disegno voi vi divertite perché devo smettere quindi fondamentalmente ha detto che disegno finché ci vuole però lo fa magari senza essere impressione come adesso magari fa storie uniche cioè fa una cosa in due o tre volumi finisce e via Toriyama stesso dopo Dragon Ball si è preso un bel periodo di pausa poi ha fatto Nekomajin successivamente ma sono tutte storie che però ha fatto lui perché ha detto ok voglio fare questa cosa erano capitoli piccolini se li gestiva come voleva lui e via però tanto Nekomajin adesso non vorrei dire una castroneria ma mica lo voleva infilare in Dragon Ball era comunque un'idea che aveva già dai tempi di Dragon Ball c'è Dragon Ball in Nekomajin e no nel senso lui era un personaggio che aveva creato già dai tempi di Dragon Ball semplicemente l'ha sviluppato poi dopo ma è bellissimo se ne ha recuperato se non avete mai letto è un volume unico è un volume unico è un volume unico adesso che è morto auguri a voi adesso che è morto Toriyama perché non so se lo ristamperanno ho visto su Vintage già gente che lo sparava è molto molto bello se di ristampe me lo aspetto un botto in realtà anch'io me lo aspetto ma non su queste che proprio è dall'opera dell'autore ma io me lo aspetto anche perché ci stanno lucrando su a sto punto ristampa me le tue case editrice li parliamo recuperate la decomagica è un volume unico se lo troviamo Sandland lo stanno ristampando e tra l'altro deve uscire anche la serie animata su Disney Plus e deve uscire anche il gioco quindi li stanno facendo in tutte le salle lo stanno veramente cioè dimmi un media stanno rifacendo Sandland quindi non c'è problema sembra veramente sapessero che stesse per morire è assurdo questa roba qua che poi anche lì Sandland Toriyama ci teneva parecchio perché era proprio tutto nato dalla sua testa il fatto di creare questo personaggino come si chiamava era no Lucifero però vabbè un diavoletto comunque legato agli inferi adesso non mi ricordo anche perché non ce l'ho il fumetto quindi non vorrei dire una scemente però non si chiamava Saddam sicuramente e io non ho fatto l'ora di giocare o quello non lo so sinceramente il gioco non mi dava queste grandi vai non sembrava non sembrava incredibile come gioco però magari è divertente però sembra però sembra carino cioè non sembra da merda comunque quindi io vorrei no Slump Dr. Slump la Perfect Edition c'è solo da metà in poi si trova i primi numeri non credo si trovino da nessuna parte se intendi come gioco un gioco di Dr. Slumperale non me lo cioè non me lo immagino sinceramente tanto alla fine faranno i soliti picchiaduro se fai Dr. Slumperale se picchiaduro fai con Dr. Slumperale ci sono tanti scontri nel manga ma se ho metti Arale in Dragon Ball FighterZ sì forse l'hanno già fatto in passato eh ma dai ma in realtà io non lo aspetto con trepidazione eh sempre che uscirà magari non è eh Lele se mi metto in pari lo faccio volentieri una live su One Piece full spoiler degli ultimi capitoli magari invito anche qualche ospiter il problema è che non riesco ogni volta che mi sto per avvicinare a mettermi in pari mi blocco per un motivo e poi vanno avanti e non adesso sono abbastanza cioè se mi metto probabilmente in un pomeriggio mi metterai in pari sto cercando di aspettare anche Franci ovviamente Franci vede solo l'anime io mi leggerai i capitoli Franci non credo abbia balle di mettersi in pari quei capitoli io sono allora l'ultima cosa che ho visto eh però come ve lo dico senza poco prima della trasformazione l'ultima sono proprio lì manca un attimino e c'è la trasformazione nuova che io mi sono spoilerato Franci no grazie Dream non so come ha fatto ancora non spoilerarselo Franci è ovunque c'è la gente c'è la come avatar assurdo non so come abbia fatto non se le spoilerate con Arale possono fare temple run ma con Arale che corre sì Wano sul tetto vuol dire 500 capitoli probabilmente però sì siamo sul tetto a One comunque andando un attimo avanti Nintendo ha confermato il cioè ha annunciato la data d'uscita di Super Mario Bros 2 sì più o meno sì ma sì io quando mi pio a leggere lo metto anche il periodo no 3 aprile 2026 ma anche l'altro è uscito d'aprile mi ricordo che eravamo in Giappone doveva uscire va bene si parla appunto di due anni quindi eh perché erano appena iniziato fine l'altro è uscito l'anno scorso amici qualsiasi trasformazione non era candidato agli Oscar era due anni fa Mario no eravamo là in Giappone e doveva uscire l'anno scorso era Mario eh sì eravamo là in Giappone ha vinto adesso era già uscito era uscito non doveva uscire no doveva uscire in Giappone non era ancora uscito eh no però da noi era già uscito da noi era uscito mentre eravamo lì infatti mi ricordo che c'era le locandine dei film non era candidato agli Oscar infatti non era candidato agli Oscar ma guarda che Mario non è che ne hanno parlato così tanto bene no no infatti per carità cioè ne hanno parlato normale ah era candidato agli Oscar esatto tra i film d'animazione comunque non è che c'è stata troppa roba non ci sta io tutte le robe che ho letto di Mario erano molto normali nessuno che guidava no però ci sta a candidarlo non farlo come c'è di altro come al solito eh allora c'erano robe no 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 quelli erano l'anno scorso cosa c'era incanto non era l'anno scorso incanto guarda te lo dico subito io mi ricordo incanto Mario c'era fin da minimazione di quest'anno ragazzi l'aerone Elemental Spiderman il mio amico robot e Nimona no non c'era no ma di quest'anno ovvio non c'era la Super Mario no ma Mario l'anno scorso ma no è uscito come fa a essere l'anno scorso no no prova a cercare del 2022 perché quest'anno ovvio lo sapevo a memoria dell'anno scorso 2023 non può essere se è stato candidato io parlavo di quelli prima ma quest'anno per forza ragazzi no non era candidato io parlavo degli altri anni ma perché quest'anno no nel senso quando ho detto incanto era ovvio che non mi riferivo a quest'anno no perché io pensavo Super Mario quest'anno non fosse l'anno scorso c'era Pinocchio Marcel che ha vinto il gatto con gli stivali 2 CB's The Red Nimone è Netflix anche su YouTube forse adesso Red lo stanno ributtando fuori al cinema sì anche Soul mi pare l'hanno messo al cinema che ci sta a me è piaciuto Red è carino molto carino cioè non gli avrei fatto vincere proprio niente però è molto carino molto carino Red non mi interessa vedere Super Sex del Zero madonna se per niente proprio me ne frega niente di Rocco Siffredi non mi frega niente di una reinterpretazione sì Elemental sinceramente tra Elemental e Super Mario quasi credo più Mario e non l'ho visto Elemental forse avevano paura due film giapponesi insieme a visto che c'era anche il ragazzo da Raul Red era molto carino poi si da Oscar non lo so però no sono contento che lo stanno rifacendo al cinema perché appunto era uscito in pandemia e l'avevano dovuto mandare su Disney quindi ci sta anche che lo ributtano fuori adesso o Taro sì Gepard diciamo che Elemental War è carino è più o meno il commento medio che ho sentito cioè è carino riprende anche cose già viste però è caruccio cioè è simpatico chissà se adesso metteranno effettivamente quello mi fa piacere come produzione però secondo te Mark metteranno la statuetta degli Oscar nel museo dello studio Ghibli in mostra non quella vera chiaramente non quella vera però magari la ripetono perché è il primo che vincono no 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 forse non è il primo dicono che sia il primo ah no dopo il precedente del 2003 è perché non è allora la città è incantata il problema del Ghibli è che quello che ha vinto cioè tutti i film che avrebbero dovuto vincere non hanno vinto e hanno vinto quelli che la gente non si aspettava sempre però ma sì doveva già essere quella della città incantata la città incantata era proprio bello tra l'altro a quanto pare c'è una dichiarazione di Miyazaki che durava due ore delle ultime ore mi sa quanto durava beh un po' lavoro quel film ha detto c'è Miyazaki che quanto pare la dichiarazione sarebbe stata sono giapponese non posso mostrare felicità avrebbe detto questo l'articolo è delle 7 di mattina quindi ci può stare 127 di mattina nostra ovviamente no invece ha detto che lo studio Ghibli è molto contento di averlo ricevuto cioè in generale proprio tutti quelli dello studio Ghibli sono contenti diciamo che era anche un riconoscimento secondo me è un po' il discorso della migliore attrice anche se avesse vinto Spider penso che tutti sarebbero stati contenti sono stati degli Oscar giusti secondo me non c'è stato qualcosa che ha fatto scandalo poi vediamo un po' altre notizie cioè chi è Miriam Margoiles fammi vedere ah è quella che ha fatto scrivo sempre sbagliando le frasi è l'attrice che ha fatto la professoressa Sprout su Harry Potter che ha detto Harry Potter è per bambini e gli adulti dovrebbero andare oltre ha detto veramente una sensazione vabbè ha detto una roba da signora anziana che non si ma non ha senso proprio non so per quale motivo l'abbia detto più che altro come al solito hanno strappolato da un discorso più grande ha detto veramente no ha detto proprio siete fan di Harry Potter da molto tempo non dovreste ma cosa vuol dire c'è l'intervista comunque se avete voglia di guardarlo è successo 25 anni fa ed è per bambini penso che sia per bambini sì è per bambini Harry Potter inevitabilmente però ma non vuol dire niente che non posso apprezzarlo anche dopo ci siamo cresciuti quindi è proprio per quello che ci pensiamo ancora vabbè ma poi si poi ha detto che gli è molto grata e blablabla cazza cavo ci ha lavorato per tutti i film cioè è comparsa forse in è comparsa in due film ma poi è sempre questo discorso che se dici bambini allora stai insultando no no è indubbiamente è scritto per bambini quante cose sono per bambini non è Peppa Pig però nel senso è scritto per bambini Harry Potter però non c'entra vabbè comunque ma anche volendo anche se vedi anche Star Wars tecnicamente è nato per bambini ma in realtà beh no io parlo proprio di come è scritto anche il libro e tutto e insomma i primi sì ma dal quarto quinto in poi non più così tanto ma perché il discorso è sempre quello che fanno però esatto perché anche lei l'ha scritti con in mente la gente che cresceva sì però comunque ha una scrittura per giovani anche il terzo sì non è così proprio base cioè bambini ok ma non tanto bambini cioè non per infanti per bambini ma che poi ripeto il fatto di scrivere un'opera anche per bambini non gli toglie potenza no ma infatti è il motivo per cui mi incazzo quando fa le robe per bambini di merda io perché mi dà fastidio cioè il fatto che tu crei una roba che va bene anche Dragon Ball va benissimo per i bambini e va benissimo per un trentenne quarantenne cinquantenne sessanta cioè nel senso puoi creare un'opera per bambini che piaccia comunque perché fai un bel lavoro e piaccia tecnicamente anche nel primo film però vabbè lì è anche di scritto che non sembra che l'abbia ucciso però negli altri film c'è gente che viene detta che muore palesemente ma la scrittrice non è incompetente la scrittrice in realtà ha dimostrato di essere competente e il problema è che sia pirla quello è il problema che sia incompetente di vista letterario non è per niente se era incompetente opinabile non dico che sia la migliore scrittrice del mondo però se le storie sono piaciute così tanto è perché comunque ha saputo scrivere quindi i suoi per scrivere qualcosa di interessante non devi per forza essere un bravissimo scrittore ma non gli darei dell'incompetente al massimo gli darei della ignorante e altre cose cioè sicuramente il film non è il libro non è scritto non è Tolkien non è scritto così bene come ci si aspetta da un'opera del genere ecco chiaramente se devo pensare a un esercizio di scrittura penso a Tolkien non a lei però non la definirei incompetente la definirei ignorante la definirei retrora sicuramente le altre cose fuori lasciamo stare sicuramente è più brava di me a scrivere beh sì però sì sì ma Ricchi non sarà la migliore scrittrice e non credo lo pensi nessuno è che ha inventato un mondo molto bello ha comunque dei meriti adesso va bene l'odio personale ci sta perché per carità per le dichiarazioni che fa come fai a non odiarla però bisogna anche essere oggettivo ha fatto comunque una storia interessante poi tra l'altro lo dico io non sono neanche fan di Harry Potter è il motivo per il quale generalmente i film dell'illumination mi fanno pena sono film d'animazione per bambini ma che trattano i bambini da stupidi ultimamente stai confondendo le cose però non puoi dire uno scrittore scrittrice che dice queste cose è incompetente sono cose diverse non c'entra la scrittura con quello che dice nell'attualità sono cose completamente diverse ricordiamo che era un razzista di merda eccetera però ha creato delle robe incredibili essere un razzista purtroppo non lo ma Pets secondo me è un film d'interattenimento che non puoi dire è stupido cioè Pets vuole essere quello che è se invece vuoi essere Up che poi anche Up c'è sui momenti per bambini stupidi perché poi viene sempre esaltato ma Up nella parte finale c'è un sacco di caccate se vuoi essere Wall-E diciamo così e fai Pets fa cagare se vuoi fare Pets e fai Pets bene hai fatto un bel lavoro che Pets deve essere quello deve essere un film sui cagnolini con una trama base che possa essere divertente per le famiglie e fine e secondo me lo fa da dio Pets Lovecraft non è che non era politically correct Lovecraft era letteralmente il contrario lui era razzista e nei libri c'erano n-word e robe del genere cioè non era non era politically correct su Tolkien è ancora dibattuto su Tolkien in realtà non era cioè in molti accuse in realtà non erano proprio fondatissime su Tolkien poi bisogna vedere perché tante cose non escono fuori diciamo che erano altri tempi qua si può dire qua si può dire ma comunque non va giustificato molto l'altri tempi ovviamente la Rowling dice quelle cagate adesso che sono altri tempi anche in questo caso il discorso è che per Tolkien era normalità quel tempi essere in quel modo però diciamo si poteva anche non essere purtroppo per la Rowling che vive in quest'epoca è difficile non so come giustificarla letteralmente in casa però va distinto come si dice sempre va distinto l'autrice da la persona che è sì sì ma infatti per quello dico poi cioè se distingui comunque la Rowling dalle sue opere comunque ha creato un mondo bellissimo però come scrittrice c'ha avuto i suoi problemi c'ha avuto ragazzi io tiro fuori sempre una buona scrittrice con un'idea incredibile io tiro fuori sempre Kenshin i Samurai Vagabondo Roruni Kenshin uno dei miei manga preferiti lui è un pedofilo è stato accusato di pedofilia è stato ha perso ha ammesso di avere materiale pedopornografico e fai cagare rimane Roruni Kenshin un'opera incredibile ha tenuto in piedi riviste intere quando non c'era niente rimane tutte le robe di Roruni Kenshin rimangono lì ha creato cioè grazie Oda era Oda e quello di di Shaman King adesso mi sfugge il nome sono gli allievi di quello di Roruni Kenshin quindi non avreste avuto neanche Oda come adesso probabilmente senza Roruni Kenshin quindi lui è andato in prigione bene così Takei bravissimo è andata bene così che è andato in galera era una merda Roruni Kenshin rimane Roruni Kenshin anche perché nel manga non è che fa cose pedopornografiche è un manga sui samurai divertente spensierato quindi quello non cambia però è vero anche Paolo Villaggio l'ha messo lui stesso all'ultima intervista cioè allora così non dobbiamo denunciare i fantozzi a sto punto il discorso che poi fare il discorso lì è così poi questa è una cosa soggettiva io spesso non riesco so che si dovrebbe dividere ma io spesso non ce la faccio io sono uno di quei bastardi che non ce la fa come dice a volte artiste e persone si fondono insieme ma perché però sono personaggi diversi un po' come pensi anche a noi figure così molto vicine al pubblico allora a parte che va bene il nostro lavoro è anche molto diverso il nostro lavoro è molto più rapportarsi al pubblico proprio come lavoro quindi se noi come persone in primis facciamo cagare è la cosa principale cioè quello il contenuto molto spesso quindi è un disastro un attore che lo vedi solo recitare è diverso come ha fatto l'esempio di Kenny West che lo vedi anche spesso cioè la sua persona è spesso anche fuori dalle sue canzoni e tutto è un'altra cosa poi ripeto Ronnie Kenshin nell'opera non c'è niente che ti riporta quello che ha fatto lui di grave se leggessi un'opera di questo qui o una canzone di questo qui e dentro ci trovo comunque tracce della sua personalità che mi fa schifo ancora peggio non riuscirei a stargli dietro io tu mi puoi dire no bisogna distinguere opera fallo tu io non ce la faccio ognuno fa quello che riesce a fare io Kenny West non lo ascolto più era uno dei miei preferiti so che l'ultimo album è una bomba non riesco ad ascoltarlo ragazzi vi giuro ho provato tre volte a mettermi l'album davanti non ce la faccio non ho voglia di ascoltarlo è sbagliato o no decidete voi non mi interessa la mia scelta non ce la faccio io per Roruni Kenshin ce la faccio perché in Roruni Kenshin che mi parla dei samurai non noto la sua personalità di merda sto vedendo un bel protagonista dei bei disegni un mondo che mi piace rido ha dei combattimenti ancora oggi ragazzi che sono disegnati da Dio guardate un combattimento di Roruni Kenshin sono fantastici non deve l'autore dividersi tra lui e l'opera è lo spettatore che deve giudicare ognuno c'ha la sua il contenuto senza giudicare la produzione ognuno c'ha la sua sensibilità poi è chiaro che un autore mette il suo tocco nell'opera però se tipo che cazzo non so Oda metti che è un pedofilo e fa e tutte le persone tutte le ragazze su One Piece sono minorenni e dice che sono minorenni e vengono violentate e robe così e poi io lo ricollego al fatto che lui è pedofilo per dire è un esempio un po' così e lì mi scade molto anche l'opera di One Piece no perché appunto lì tocchi lì c'è qualcosa che mentre leggi One Piece ti tocca perché lo associ quindi chiaramente non ce la fai Kishimoto non so non so poi Oda è stato proprio uno degli allievi di quello di Rorunikenshi lui è Takei di Kishimoto magari si ci ha preso perché è stato importante Rorunikenshi diciamo che Oda e Kishimoto più che altro Oda palesemente Kishimoto un po' meno hanno preso sicuramente da Toriyama più che altro che non era il loro vero maestro nel senso hanno lavorato con lui come allievi però l'hanno preso come maestro cioè Oda lo diciamo sempre Oda è il più grande fan di Toriyama che ci sia nel mondo Oda tutte le cose che ha fatto in One Piece dal primo Gear a quello finale ha preso tutte cose da Toriyama proprio per citarlo per omaggiarlo cioè il primo Gear che vedi in Rufi è il Kaioken ma non ci ha provato nemmeno a nasconderlo gli ha proprio fatto un tributo cioè addirittura si parlavano chiedeva consigli cioè se tu senti Oda a parlare di Toriyama lo vede proprio come se lui mi diceva una cosa per me valeva il quintuplo di quello che mi diceva non lo diceva un altro era proprio veramente perché ma si vede cioè se leggi One Piece non puoi non vedere anche Toriyama tante cose poi che uno dica si è amplificato l'ha reso più bello quelle sono cose soggettive però si sta che non ti senti a tuo agio a finanziare la Rowling tramite Harry Potter così però questo ti fa dire che Harry Potter fa cagare quello che si vuol dire diciamo che in Harry Potter non noti la transfobia della Rowling se tu leggi adesso non so i libri parlo comunque non è così dentro non dici fa cagare il mondo che ha creato solo perché c'hai i pensieri del cazzo che c'ha la Rowling tutte le dichiarazioni che ha fatto quello diciamo che se vedo un dialogo di Harry Potter non dico transfobia non me ne rendo minimamente la lotta alle discriminazioni più o meno no sì nei libri sì nei film ricordate la campagna di quel potaggio di World's Legacy comunque è diventato il titolo che ho letto certo quanti li letti il primi 4 li ho letti comunque non è che non mi ricordo quella del Grab non mi ricordo se è partato dal quarto era nel terzo ma io non ho detto questo sto parlando solo del discorso sul dividere altri artisti con i 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 no no ma infatti non sempre riesci a farlo Mozgus però sono d'accordo non sempre si riesci a farlo cioè dipende ripeto io a Ruruni Kenshin ce la faccio perché a Ruruni Kenshin a parte che lo associo a me ragazzino quindi non è che ho pensieri brutti l'ho scoperto dopo io quello che ha fatto l'autore non lo sapevo Rob sì c'era la cosa di Hogwarts Legacy però anche lì devi stare a capire che tu vuoi boicottare quel prodotto lì perché deriva da una cosa della Rolling sì ma boicotti anche altre migliaia di persone che ci hanno lavorato dietro è quello il solito discorso che avevano detto anche i tempi anche i film ma tu non vai a vedere i film perché sono tratti dall'opera della Rolling sì ma ci sono mille persone che ci hanno lavorato dietro cioè non è una cosa facile da dire sì o no il libro ok il libro è suo non vuoi prendere i libri ok tanto sono suoi ok è quello che diceva prima Franci che diceva io non gli voglio dare i soldi c'è sempre la casa editrice dietro e tutto il resto ok però è più diretto dare i soldi per il libro per i film i giochi a fine c'è molta altra gente che ci lavora dietro vabbè c'è da dire che tanti libri li avevano già comprati anche prima perché la Rolling no ma anche se l'avesse dette durante non tutti magari avevano i social a un'età per capire o comunque avevano le robe per cercarsi le robe online cioè io di Tolkien la prima volta che ho letto Signore dei Anelli non è che ne sapessi tanto di Tolkien hanno detto mi piace Signore dei Anelli mi leggo le cose no ma poi comunque boicottare è diverso poi dopo vai a informare nel senso è quello che dicevo prima a me sta pure bene che vuoi boicottare le opere della Rolling per non dargli soldi per non dargli soldi perché la reputi un essere umano di merda è che in quel caso non è che li prende tutti la ruota e posso essere d'accordo no ma non è neanche quello posso essere anche d'accordo però cioè se per boicottarla mi viene a dire guarda che Harry Potter è scritto di merda è un mondo fatto del cazzo e cose del genere cioè lì è palesemente una cazzata nel senso cioè poi può non piacere quello che ti pare però è quello il discorso di dividere l'opera dall'artista Harry Potter rimane comunque un ottimo un'ottima opera a prescindere esatto però posso essere d'accordo col boicottarla però è comunque quello ci sono un sacco di contrasti in realtà a Walt Disney ci sono un sacco di testimonianze e un sacco di libri che raccontano invece cose totalmente invece perché tu hai scritto è rinomatamente antisemita in realtà non è rinomatamente proprio si è sparsa così la voce ma in realtà ci sono più voci che dicono il contrario e anche più bisognerebbe leggere io infatti ho nella lista desideri tanti dei libri che parlano di Walt Disney proprio perché vorrei approfondirla questa cosa qui perché in realtà non è chiara invece la Rowling ci sono i tweet voglio dire la Rowling è proprio una cosa hai il tweet hai cos'era quell'altra cosa che era venuta fuori con un sito con delle magliette che vendevano roba che escludeva assolutamente i transessori era un discorso adesso non mi ricordo ormai quando escono robe sulla Rowling dico ok ha detto un'altra delle sue so che Dario ha fatto una live approfondita lui ha letto tutti i libri dicendo anche prima di voi contare a Wars Legacy no di quella cosa ma tanto lei comunque i soldi li aveva già presi perché i soldi li ha presi prima di che iniziasse il gioco per comprare i diritti quindi lì boicottare il gioco vuol dire boicottare la gente che ci ha lavorato e non lei perché lei i soldi li ha presi comunque come dicevo prima io ho detto che la Rowling non è che è una scrittrice della Madonna però è una buona scrittrice la sua quello che ha vinto di Harry Potter non è la qualità di scrittura ma è il poi per carità è leggibile molto bene c'ha dei buconi anche solo per l'idea si è piaciuta a tutte queste persone ha creato un mondo che è bello punto e quello lì fa tanto no anzi erano usciti fuori con il discorso erano usciti fuori con un comunicato che la Rowling non c'entrava nulla lo devono fare perché hanno paura di perdere soldi perché la gente non ha capito che tanto la Rowling se le ha comunque presi i soldi se le ha già presi i soldi del gioco perché le ha pagati prima bravo Marker adesso nella serie tv nella serie tv che deve uscire la Rowling è coinvolta quindi qua già un discorso diverso i guadagni magari sono in base a come va la serie il fatto è che ragazzi finché è in vita e lei ha creato il Harry Potter è difficile capito che è difficile comunque i diritti sono sempre suoi o della famiglia sarà proprio difficile cioè se hai amato Harry Potter l'ha scritto lei è difficile proprio escluderlo pure da morta fino a non so un po' i diritti bisogna vedere a chi vanno non sono io poi ripeto io non sono neanche fan di Harry Potter però indubbio che ha creato qualcosa poi comunque Harry Potter lo trovo estremamente gradevole io non sono fan come tanti altri ma comunque è stata una bella idea ed è un brand che ha fatto la sua fortuna voglio dire però cioè quello che dico io è capisco le battaglie le lotte perché dice delle merdate è ok però ragazzi l'ha fatto lei cioè come fanno a non coinvolgerla dico proprio anche a livello legale come cioè non puoi non coinvolgerla un minimo quando pensi a qualcosa di Harry Potter perché l'ha fatto lei cioè o crei qualcosa in più tu ma non sarebbe cioè rischi di fare poi cagate è veramente una roba difficile però vabbè continuiamo qua va allora vabbè c'ho altre notizie Stellar Blade i costumi extra della protagonista sono quasi delle nude mod vabbè si era visto tanto l'incipient del gioco era quello di far vedere il culo della protagonista che è anche la cosa più generica del mondo e va bene poi hanno annunciato per pc e nintendo switch rains beyond che sarà il nuovo rains è quello delle carte tipo tinder che devi suoi pari a destra a sinistra con le scelte che è uscito l'ultimo che però ha delle recensioni bruttine che volevo prendere però non l'ho preso questo qui rains beyond invece sarà ambientato nello spazio vedremo chissà tra l'altro hanno dato le date sempre ieri nel video per Mario per annunciare Mario 2 sia di Luigi Mansion 2 HD ovviamente per switch sia di Paper Mario Luigi Mansion il 27 giugno mentre invece Paper Mario 23 maggio Mario vi può interessare poi un'altra notizia che avevo letto prima ah ecco quelli di Outcast di Star Wars Star Wars no si Star Wars han detto che sono ispirati a Breath of the Wild no Outlaw ah no vedi vedi che mi è uscito Outcast era quello mi ricordo si era quello con A New Beginning Kale 2 esatto di Outcast quello lì hanno detto che è ispirato a Breath of the Wild cioè si sono ispirati hanno detto che gli era piaciuto tantissimo Breath of the Wild e volevano non fare le cose lineari perché mi piaceva che non fosse che sono quasi curiosino di sto Outcast me ne ha parlato a me non mi ha detto molto però me ne hanno parlato a me non mi ha detto proprio no neanche a me sinceramente da vederlo così l'unicor novella del gioco più atteso dai lettori di Famitsu vabbè ok intanto ne hanno parlato tutti come un capolavoro dello strategico eccetera quindi capire se c'è uno fan beh in realtà è al primo posto su Famitsu ma è veramente pochissimo sopra Monster Hunter Wilds comunque anche quello è Giappone per carità siamo lì siamo lì anche Mario poco sotto sono solo lì comunque Mario Paper cioè scusate Paper Mario Monster Hunter Wilds e Unicorn tanto si dice che Hellblade 2 sarebbe uno dei prossimi giochi in Xbox in arrivo su Playstation 5 per un rumor anche se non penso così velocemente ne dubito però io credo che ormai arriveranno ovunque e manca poco anche per quello lì eh poi c'è qualcosa c'è roba di Luke ve la leggo al volo allora Fallout 5 la serie tv non ruberà contenuti al gioco assicurato d'Haward quindi quello che avete fatto nei giochi rimarrà lì parlano di Fallout 5 si rimarrà lì in futuro Fallout 5 non c'è tra nulla con la serie si hanno fatto nel senso che hanno delle idee ben precise perché su Fallout puoi fare veramente il cazzo che ti pare spero che non ci sia per l'ennesima volta c'è questo personaggio che credevi morto invece morto io non ce la faccio più veramente potrebbero anche andarsene via dagli Stati Uniti tanto se poi radia il suolo tutto puoi farlo anche in Giappone si in realtà è Fall Out è che me ne rendo conto e tutto il mondo sarà così per me l'unica cosa che devono fare quelli di Fallout è scrivere una trama un po' nuova perché hanno ripetuto le stesse robe per due giochi che mi sono piaciuti ripeto però basta vorrei una trama un po' diversa andiamo poi con Dragon's Dogma dicono che avrà più di mille PNG unici grazie Luke grazie da Tier 2 grazie mille ciao bello devo ancora provare Tavern Master hanno raccontato delle robe di cioè Karim e Gatto di Dragon's Dogma che loro l'hanno provato un mese fa eh sì me lo diceva Karim ma anche l'evento sono un po' voglio giocare quante coppie ha venduto Ori chiedono e ha rivelato Moon Studio ha rivelato l'incredibile risultato ovvero circa 10 milioni di coppie il che probabilmente lo rende la serie di Metroidvania di maggior successo mai realizzata tutti e due l'uno e due considerando che è sul Game Pass secondo me intende tutti e due perché dice Ori non è che specifica The Blind Forest o altro quindi secondo me è la saga poi abbiamo un bel gotico Dragon's Dogma no io dopo ho scontato che non lo farà assolutamente c'è Final Fantasy non lo so cosa deve uscire e non è che esce moltissimo altro è importantissimo c'è Dragon c'è Scusate Like a Dragon c'è Final Fantasy ma ancora manca un sacco ancora manca un botto aspettiamo sì ma il problema è che i giochi annunciati non ci sono è quello il problema ma magari c'è qualche ID o qualche gioco che magari sottotono sì Hellblade c'è ah c'è Stalker 10 settembre sì ma anche Stalker io anche lì non credo dubito che sarà gli Unicorn Overlord ne hanno parlato tanto del CD Elder Ring bisogna vedere non è candidabile ai goti come gioco dell'anno non so quanto sia candidabile ai goti però no non può essere candidato cioè Unicorn Overlord per quanto sia a dettaglio di tutti un capolavoro nel suo genere non so quanto sarebbe da goti mi sembra poi magari lo vince però non saprei o lo candidano però non saprei non lo so c'è Wukong ma l'ho giocato niente quindi c'è Wukong e guarda che in realtà quelli che importanti che escono sono proprio giusti 5 o 6 è giusto chiaro se me lo dici a me ti dico forza Like a Dragon ma dubbi diciamo che non è come diciamo che no forse allora se non escono tanti sì no secondo me non sarà neanche nominato però non diciamo che gioco di pitch potrebbe essere ai goti guarda che è vero è vero è vero quello non se lo sta cacando nessuno ma perché è l'unico di nintendo no però secondo me non sarà neanche secondo me sarà mal cagato perché è anche una bella idea quella di pitch il gioco della principessa pitch già lo metti come secondario però è però cavolo c'ha 200.000 gameplay cioè è una roba comunque particolare è l'unico gioco nintendo che esce importante quindi per forza candidato perché un gioco nintendo ce lo devono sempre mettere anche Final Fantasy VII c'ha mille giochi diversi però beh infatti Final Fantasy VII è candidato sì ma non per quello io comunque Like a Dragon dico che lo candidano non dico che vince ma dico che lo chiaramente lo tiffo da morire se vince godo non escono di AAA beh quelli che stavo dicendo sono AAA sì non escono di famosi diciamo di a parte Final Fantasy Rise of Ronin non so se verrà candidato no adesso vediamo dipende ancora devono uscire ancora devono uscire è il Blade 2 per come per quello che si è visto per me lo candidano no sicuramente lo candideranno quello non è detto che vincano ma secondo me Microsoft non può vincere è papà secondo me con i nomi che stiamo dicendo Final Fantasy a meno che iscrivano proprio dei capolavori incredibili quelli che devono uscire Final Fantasy perché se lo devo giudicare nel complesso non so scrivere ne ho parlato diciamo che non è veramente diciamo che non è come l'anno scorso sicuramente non è come l'anno scorso che c'è l'imbalazzo della scelta quest'anno secondo me sono proprio contati giusti giusti per arrivare a 6 non lo so ci potrebbe essere anche un qualche annuncio con uscita sì però molto difficile più si va avanti sì no ma infatti anch'io io sono per Like a Dragon ovviamente non vincerà mai però sai sì ma quello lì per fan però se lo devi giudicare oggettivamente a me è piaciuto da morire quindi è certo anche a me è piaciuto da morire però se non ho giocato Final Fantasy comunque quest'anno sarà veramente contati l'anno scorso invece ce n'erano molti che sono rimasti fuori che è uscito dopo dicembre c'è qualcosa che era rimasto ciao Sergione a dicembre al pelo no come sai no no credo di no c'è Banisha anche se quello dubito verrà candidato e poi per me l'Alk at Dragon cioè purtroppo l'unica cosa di l'Alk at Dragon è il livello tecnico perché è indietro grazie Raging per il resto per me potrebbe vincere tranquillamente grazie Raging grazie a Tiro per la storia e tutto per me potrebbe vincere poi chiaramente se parliamo tecnicamente tecnicamente per la storia è tutto cioè anche Final Fantasy quello lì è io quello non l'ho giocato io parlo per l'Alk at Dragon se tu mi dai la trama di l'Alk at Dragon ti dico per me lo convince il God è il Blade 2 mi aspetto anche quello che come narrazione tutto sia tanta roba sarà più complicato quasi il 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 registico che è più che il got in sé secondo me quest'anno vedremo non lo so effettivamente adesso sicuramente ci sfugge anche qualche titolo ma sì probabilmente ciao Ollo tiktok verso il ban negli USA anche Biden è d'accordo quindi prima c'era Trump adesso anche Biden sembrerebbe d'accordo se sale Trump che è quasi scontato secondo me mettetevi là in un bacio che salirà Trump di nuovo tiktok sparirà negli Stati Uniti lo consigliate Dark Ryzen da recuperare al volo va volendo cioè è incredibilmente poco invecchiato Dragon's Dogma Dark Ryzen io ho sempre detto come mia esperienza non io non ve lo consiglierei mai perché a me non ho fatto cagare per un sacco di cose però il gioco è piaciuto tanto quindi perché non poi 4 euro giocatevelo ragazzi fatevi la vostra opinione sì comunque un gioco che per 4 euro vale e come ma anche a 10 vale c'è delle cose che non mi sono piaciute bisogna ritirare tutti i personaggi quindi sarà un po' complicato che torni con il VPN continuano ad usarlo quindi chi vuole rimanere il modo lo trova sì Crowfall chi cazzo usa la VPN per TikTok ma non c'è più supporto negli Stati Uniti i pagamenti sarebbero molto più complicati perché ci capo TikTok va tanto perché c'è tanta gente comune che ci va che usa la VPN se metti di 100 persone che usano TikTok negli Stati Uniti la VPN la useranno in 0,1 che è già tantissimo ma che 10 no in 0,1 il gioco dice che nemmeno con la VPN va no ma poi comunque anche se dovesse andare cioè tu lo puoi fare i contenuti dall'America ma nessuno te li guarda quindi è una roba estremamente complessa per uno e come gente che sta continuando a fare contenuti dalla Sud Corea su Twitch ma sì non ha più il pubblico coreano cosa fai cioè chi era internazionale che parlava in inglese può andare avanti ma gli altri no poi abbiamo quanto pare Bobby Kotick ha una pazza idea l'ex boss di Activision vuole comprare TikTok quanto pare Watch Dogs tutto quello che dovete sapere sul film con protagonista Sophie Wilde è vero che deve uscire anche il film me l'ho completamente dimenticato i Razzi Awards sono quelli brutti no? quelli peggiori e Sylvester Stallone peggior attore Megan Fox peggior attrice peggior attore non protagonisti maschile e femminile per i Mercenari 4 e Megan Fox non mi ricordo cosa va a fare vabbè Sea of Thieves è il gioco più preordinato su PS5 in questo momento sì vabbè fammi l'almanacchio va chiuso trompirla ogni volta chiudo la finestra non devo l'almanacchio andiamo subito a leggere le notizioni del lunedì allora abbiamo nel 1818 viene pubblicato il libro Frankenstein o prometeo moderno di Mary Shelley che però nella prima edizione non viene citato nel 1949 il consiglio dei ministri approva l'ingresso dell'Italia nella Nato nel 1961 due anni dopo il lancio di Barbie di Barbie virgola la Mattel mette in commercio Ken presentato come il nuovo fidanzato di Barbie quindi nel 61 nel 1990 la Lituania vota a favore dell'indipendenza dell'Unione Sovietica si tratta del primo stato a farlo anche se l'Unione Sovietica si oppose nel 2002 viene inaugurata l'installazione realizzata per commemorare la caduta delle Torri Gemelle di sei mesi prima si tratta di due fasci di luce che si innalzano verso il cielo abbiamo i nati oggi che sono Torquato Tasso che è un poeta nel 1544 nel 1931 Rupert Mardoch un editore 93 anni ancora in vita nel 1933 Sandra Milo avrebbe avuto 91 avrebbe fatto 91 anni oggi è morta pochissimo tempo fa nel 1941 Cocchi di Cocchi è renato 83 anni fa nel 1952 Douglas Adams che è lo scrittore di Guida Galattica per Autostoppisti 72 anni e nel 1985 Nicol Minetti che fece un po' di scalpore perché fu una politica lasciamo stare fa 39 anni fa il proverbio dell'11 marzo è difficile vedere un gatto nero in una stanza buia specialmente quando il gatto non c'è non c'è la spiegazione però di questa le giornate sono giornata nazionale dei pisolini bestiale mi sa che oggi partecipo giornata del Commonwealth l'organizzazione governativa intergovernativa scusate di 56 stati accumunati dall'essere state colonie britanniche la giornata dello sfatare notizie fatti e storie non vere quindi la giornata di sfatare le fake news praticamente la giornata nazionale dei sogni l'inizio del ramadan ho visto Pogba ha messo un post giornata del lavarsi il naso giornata mondiale che ho visto l'altro giorno le lavaggi del naso su amazon la giornata del venerare gli attrezzi io non so cosa voglia dire c'è anche la giornata delle tubature e sia la giornata delle tubature che del venerare gli attrezzi no è la tua giornata cioè la maglia ufficiale del sonno e poi abbiamo la curiosità Stidi Stidi Ed Edrick l'inventore del frisbee e dello sport del disc golf o frisbee golf lasciò scritto nel suo testamento la volontà di venire cremato e che le sue ceneri venessero usate per creare dei frisbee che vennero poi regalati ai familiari e amici alcuni furono messi in vendita per finanziare l'apertura del museo del disc golf dedicato a Stidi Ed quindi quindi praticamente è diventato un frisbee effettivamente che venne dato un po' alla famiglia un po' a questo museo beh in realtà creepy terrificante mi fa più senso quando buttano le cose in mare ti dico la verità almeno il frisbee è lì non lascia cose vabbè sì Rob sì 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 e possiamo andare avanti con la rassegna buba sì 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 tra l'altro una cosa che non abbiamo detto è che c'è stato il momento per commemorare gli attori deceduti nel corso dell'anno tra l'altro ogni volta che fanno vedere Matthew Perry io piango e sempre proprio sempre quest'anno a cantarlo era Bocelli con suo figlio gli hanno fatto anche una standing go chiuso momento Oscar non l'avevamo detto prima andiamo con Isabel compie otto anni doppia festa con Francesco Totti e Larry Blasi e la figlia perché non avesse capito poi abbiamo Melissa Satta singole sexy fuga le terme in bikini ed effettivamente vedo il suo abuse del ciao andiamo poi con Fedez che è sempre più lontano da Chiara Ferragni è scomparsa anche la foto di famiglia la foto con lei nel senso che si allontana proprio sempre più fisicamente beh lei è a New York quindi effettivamente anche fisicamente e ha messo la foto del suo discorso del primo maggio non c'è più quella con la famiglia abbiamo poi Heather Graham che è un'attrice a 54 anni a 54 anni sfoggia un bikini perfetto grazie allo yoga effettivamente si è tenuta in formissima la Graham e poi abbiamo Ariana Grande che ha pubblicato il suo nuovo album il suo nuovo disco e appare una tracklist con un feat molto speciale perché ha fatto una canzone con la sua nonna ieri era agli Oscar tra l'altro abbiamo poi la famosa foto della Kate Middleton non so se avete seguito in questi giorni è uscita questa foto un po' strana sembra ritoccata a quanto pare dicono che è stata manipolata è stata modificata e quindi l'hanno rimossa vedremo cosa c'è dietro già ci sono tutte le teorie complottistiche quindi capiremo e più che altro si girano perché lei tecnicamente è stata operata recentemente quindi non si sa c'è stata la diatriba del fatto che inizialmente sembrava non fosse lei in pubblico poi si era rivista una sua foto adesso recentemente in macchina insomma ci sono un po' di cose strane poi abbiamo i due momenti a Marcord il primo è anche un augurio perché auguri Cocchi Ponzoni che appunto Cocchi di Cocchi Renato eccolo con Renato Pozzetto nella sigla di Zellig Circus del 2005 e poi abbiamo a proposito dei premi Oscar i premi Oscar di Natalino Balasso a Zellig 2000 l'attore specializzato nel genere porno elenca i conoscimenti ricevuti c'era lui che fingeva di essere questo attore porno che era stato premiato vabbè mi faceva ridere Natalino Balasso poi crescendo visto che parlava Veneto non l'ho più ascoltato beh no non è vero non è vero non è vero e andiamo andiamo avanti no capo non fingeva non lo so mettere la battuta sul Veneto ci sta sempre andiamo con il guess the gaze va bene questo qui di single gatto solo lui c'è di Veneto tra l'altro sì sì questo è un cantiere ma è coso questo è like a dragon anche io ho pensato a like a dragon però di due non so ti chiedi troppo metti la saga innanzitutto yakuza like a dragon non credo si chiama yakuza il primo era si yakuza like a dragon metti l'altro sarà like a dragon è infinito 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 wealth sì bellissimo vediamo i vecchi previous days il 666 attenzione pokemon sleep sì decisamente mi fa ridere amore tutto a posto questa immagine pazienza franci non c'è pokemon eccolo pokemon slips mi fa ridere nel 666 poi allora mi ha ricordato allora stavo per dire mass effect ma no mi è venuto in mente è tagliata l'immagine allora mi era venuto in mente 2066 ma non mi ricordo livelli del genere però a me viene in mente ftl però però ma ftl forse è più ftl non lo so sai non è che aiuti molto la seconda foto ne so quanto prima non lo so c'è sta fiamma no non è 2066 non aveva livelli nello cioè la grafica me lo ricorda ma i livelli non erano spaziali però cosa potrebbe essere con questa grafica leggermente cartoon cioè no cartunesca però vabbè no starbound non è no starbound non è neanche quello però 86% di ma metroid l'ultimo metroid che è uscito quello su su switch non lo so non lo so non me lo ridà molto prova prova a vedere se magari è il brand almeno fa male il collo ragazzi sto facendo veramente fatica oggi ci sono sti due dati non mi sembra un metroid ps vita ps vita no ragazzi non navigo nelle feci proprio non so alberto non so neanche se è un gioco quello che hai scritto tu provo a cercarlo non ho mai sentito in vita mia questo non è vuoi un moment non lo so amore preferire dopo mangiato velocity 2x mi fa veramente male era quello è palesemente ragazzi non in blind dalla terza per chi l'ha giocato lo può riconoscere dalla quarta al massimo vabbè che è la terza è terza che ha il personaggio la quarta si è il personaggio dalla terza dalla quarta dalla terza si sei visto se hai giocato col menu terribile sto gioco cavolo c'ha un bot 86 è tanto però sembra terribile vabbè fatti passiamo al clip thermal hey zitti oh no ci sono i merdi ragazzi quali per dormire sacerdoti minecraft oh sì ottano dov'è anche qua c'è sacerdote prendiamo gli altri cosa c'è il 411 che c'è l'ipera scusa ah perché abbiamo detto solo cazzate vabbè 4 e 12 perché non c'erano il 12 3 e 12 non so zitti è fortissimo comunque di essere infatti non parla perché ho detto ha gli occhi dell'assassino l'avevo visto e non si è colpato che gli entrati no si non so di niente che è stata bella live è un peccato calcio vado saremo rifanno non c'era un altro gioco simile speriamo di no no c'era eh dead by daylight no 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 sì vero che quello no ce n'era anche un altro sì quello di ash come si chiamava nel gioco non mi ricordo però non me vabbè eh l'ultima il momento me lo ricordo perfettamente non mi ricordo che fifa è però me lo ricordo perfettamente se texas senso massacrera invece non era evil dead è 21 è 21 è fifa 21 e quando gli ezra ha fatto il cross ma gli è entrato ah bellissimo ma è una clip famosa ve la ricordate bella bellissima c'è gli ezra che fa il cross ma gli entra e fa gol non si sa com'è possibile è bellissimo eh bravi vai osteria ma è gol ma è gol ma è possibile bello bello cos'era sta roba bello 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 ma è più bello il mio pisello ecco sapevo sapevo effettivamente possiamo chiudere mi date l'ufficialità della chiusura chissà adesso vediamo adesso vediamo un po'